Invitiamo Giuseva, che poi Giuse, io lo so, Giuse sta tipo in mezzo a tutti quelli che no, tipo ancora più giù, tipo ancora più giù, tipo qua Metterò le partite sul canale, così a cazzeggio, anche perché così ho dei contenuti easy, diciamolo, perché è da caricare sul canale, ecco, così non rimane vuoto Non rimane vuoto, perché c'è la mia camera Ovviamente la gente vedrà e non saprà di cosa, però metterò highlights, live, Twitch, live, compleanno, Twitch, quindi saprete cosa starete guardando, come se fossero, esatto Il problema è che devo stare zitto adesso per trajardare contro Giuse, perché Giuse strolce, Giuse mi batte Questa sera, le stelle che non potete perdere, sono quelle in campo Volevo metterne subito uno e poi fare melina Esatto Io ci metterei sei mesi a scaricare la live, eccetera Esatto Guardalo, il manuale da fuori aria con Lady Oscar Giuse non schippare i gol belli, li schippo io i gol belli, non schippare i gol belli Sono fiero di questo ragazzo, perché prima che gli insegnassi cosa fosse il manuale non sapeva neanche che cazzo di tasto doveva schiacciare Però quando l'allievo batte il maestro un po' mi viene, no? Esatto Sì, sempre zitto Giuse Ha fatto un gol immanuale, che porco Giuda, ma questo se lo salva Eh, è troppo forte, l'allievo di Grisamo, ha fatto un gol Perché Van Dijk come punta? Farò io, fra E invece? Hai visto il mio portiere? Guarda il mio portiere, Giuse non schippare i gol Glielo scrivo qua, glielo scrivo L'avevo messo in manuale Non schippare Non schippare i gol Non schippare, era bellissimo quel gol Era bellissimo quel gol C'hai le malattie Ve lo faccio rivedere io, regà Easy boy, easy Guarda Guarda sto gol Guarda, in manuale In manuale Sbam Di destro Vieira La mette lì, all'angolino In chiasetta, alta roba sto gol Eh, ah sì, ma te l'ho detto Ci divertiamo Escono cose che non esistono Non sto neanche laggando Non sto perdendo fotogrammi Questa cosa mi fa diventare Il cazzetto barzotto Questo è gol, lo so Lo so Cosa ho detto? Eh, lo so Lo so Non faccio il tempo a dire che questa cosa mi piace Questo è gol Paro io, fra Se entrava così però Però, però Eh, eh Bella la parata Gliel'ho messa in manuale Era bello anche Anche il mio tiro era bello Però Che devono fare Prova il filtrate Mbappe Cresciano Ronaldo Prova a passare Con un po' Occasione da rete Così Così Per riequilibrare il risultato Così Nonostante lo svantaggio Messi Partita agli sgoccioli Questa potrebbe essere l'ultima azione Cresciano Ronaldo Cerca il tiro Così Da dentro l'aria non mi piace tirare in manuale Perché o lo ha sbaglio Abbiamo fatto dei golli che non esistono in questa partita Mi è piaciuto un sacco Mi è piaciuto un sacco Scrivi in chat Punto esclamativo lista E divertiti Scimietta che ride Vabbè Un po' traiardiamo Stavolta invece Mi sono Troppo divertito Sì È così Io l'ho detto Perché è questo Lo spirito che voglio Nelle partite Che facciamo Sul canale Cioè Quando gioco con gli iscritti Lo spirito deve essere questo Non deve essere Voglio giocare contro Krizabo Perché lo voglio sfraccare Voglio far vedere Che sono più forte Perché se no Non gioco a prescindere E questo È lo stesso motivo Per cui Non vado in streaming Su youtube A portare questo contenuto A parte che su youtube Cioè Mi converrebbe anche Perché c'è molta più gente iscritta Ok Molta più gente iscritta Però non è Su youtube Se è stato una live così Dove gioco con gli iscritti La gente vuole giocare Per sfraccare Krizabo E io Non voglio questo tipo di cose Nel mio canale Io voglio giocare Per divertirmi Non voglio traiardare Anche perché poi mi prende malissimo Allora traiardo anch'io E faccio una live Zitto Dove gioco solo Exclusivamente Per cercare di vincere Le partite No Anche perché poi lo sappiamo Com'è Mike Lab Cose Che Ce la farò Prima o poi ce la farò A tenere palla Per più di due secondi Probabilmente prenderò Goal adesso Probabilmente Prenderò Goal adesso Però E fallo E questo è goal E questo è goal Goal Esatto Esatto Il portiere c'era Però Si butta Con quella frazione Di ritardo Dio Dio Santissimo Una traiettoria Strepido Che giocata Gli hanno regalato una chance E l'ha sfruttata al meglio Si ricomincia dall'uno a zero Ora avranno sicuramente meno pressione addosso Bello questo Bello questo Io lo sapevo che dovevi tornare sul sinistro Bello questo Cioè sto perdendo due a zero E un po' mi sta rodendo il culo Però va bene Eh non mi da Non ho difeso Non ho difeso Non ho difeso Non ho difeso Non ho difesa Sembrano avere il totale contro Molto lontano Il portiere e la caccia lontano Eh Allora abbiamo capito Che è una partita un po' così Ok Tira Com'è passata sta palla Come C'è Era una cagata Questa palla Però vedere quel Ronaldo Che corre La palla li sbatte sul tacchetto E rimane dietro C'è un po' Un po' Oddio Le malattie Voglio più tiri manuale Giuse Voglio più tiri manuale Un gol nei primi minuti Per mettere in difficoltà Gli avversari Ma soprattutto Per riprendere fiducia loro L'inizio di questo secondo È un momento cruciale Tipo Tipo questo Voglio più tiri in manuale Voglio Ronaldo Figlio di puttana Non sei neanche freccia giù No È diventato Scemo Neymar Dopo il dribbling Prova immediatamente Eh ho sentito una sebrana Va bene Giuse Va bene Però la bella non me la fa Come con Tommy La bella sarà per la prossima live Siete già in vista Tommy e Giuse Va bene Va bene Va bene Sono contento Sono contento anche perché sono venute tipo 20 persone oggi Una cosa del genere Non me lo aspettavo Non me lo aspettavo Un sacco di iscritti Sono venuti quasi tutti i dragons A salutare Mi è piaciuta E questa cosa ci ho tenuto Quindi signori Io vi ringrazio Per aver partecipato Alla mia live Di buon compleanno Di essere venuti a farmi gli auguri Di aver giocato contro di me Eccetera eccetera Sono contento Era la prima volta Che giocavo contro gli iscritti O contro i follower Eh Meno male Dico meno male Che non hanno voluto giocare con me I vari Raiz Siga Goal Eh Vincent Perché è gente che C'è le mani Ce li ha Non come me Che faccio finta di averle E mi avrebbe sfraccato malissimo Quindi ringrazio anche loro Per essere venuti a salutarmi in live Ma non avermi sfidato Questa cosa Comunque mi rincuore Ecco Detto questo Io vi saluto Vi ringrazio Noi ci vediamo Alla prossima live Signori Grazie ancora Buon proseguimento di serata Bella Bella Noi ci vediamo Noi ci vediamo